Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di MonoSport07 siamo qui per parlare di Formula 1 ancora una volta ultimamente sto facendo molti molti video in erente alla Formula 1 farò credo anche qualche top 10 ragazzi e parlerò anche di MotoGP nei prossimi giorni magari anche approfittando della sosta nazionale perché non ci saranno partite almeno la prossima settimana che è praticamente la settimana dove c'è la sosta nazionale non c'è calcio, meno male magari porterò la recensione per tutta l'Italia però porterò due video in meno perché le pagine della Juve e il rassunto della giornata, rassunto della Champions League tutte queste cose qui non le porterò parlerò praticamente di motori allora allora ragazzi ho parlato in un video della Ferrari in un altro video ho parlato della Mercedes in un altro video della Red Bull ho fatto anche un video per parlare delle avversarie della Ferrari che sono McLaren, Alpine, Alfa Tauri e Aston Martin ho fatto anche un video sulla mia prediction per il 2021 dal ventesimo al primo posto ragazzi della prediction di chi arriverà a primo, secondo, terzo e quarto andatevi a vedere il video, magari ve lo linko e insomma ragazzi sono state posti degli obiettivi molto molto importanti per tutti i team in questo video andiamo a parlare più precisamente, più approfonditamente degli ultimi tre As, Williams, Alfa Romeo allora vi dico subito che quello che vedo meglio di questi è l'Alfa Romeo vedo in ottima crescita anche la Williams non ho seguito i test ragazzi, ho seguito il rassunto perché seguire se una giornata di test vuol dire buttare una giornata nel senso che uno come me che fa palestra con purtroppo ragazzi faccio la scuola io quindi uno come me che fa palestra, compiti, video YouTube non posso stare tutta la giornata lì anche perché il giorno stesso se non mi sembra giocava anche la Juve quindi insomma ho seguito le riassunte non di Sky ma da qualche pagina più emergente perché secondo me Sky tende a essere troppo oggettiva e non soggettiva nei pareri quindi preferisco più affidarmi a pagine terze che hanno visto tutta ve ne consiglio anche una si chiama JBintoF1 che c'è scritto proprio su Instagram ve ne consiglio una se mi ricordo vi lascio anche in descrizione veramente perfetto ragazzi se volete seguire le notizie in maniera più soggettiva ma comunque nei giusti limiti vi consiglio 10.000 volte JBintoF1 allora 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 ragazzi partiamo col parlare dell'Alfa Romeo poi parleremo anche di Ase Williams e partendo con l'Alfa Romeo che secondo me lo vedo più pronto al 2021 cosa cambia l'Alfa Romeo? giustamente sono tutti i limiti di regolamento ragazzi perché alla fine non si può sviluppare troppo la macchina si poteva sviluppare diciamo teoricamente solo il motore l'Alfa Romeo prende il motore della Ferrari quindi teoricamente se il motore della Ferrari è di gran lunga o superiore a quello dello scorso anno che è praticamente l'unica differenza dovrebbe essere migliorata l'Alfa Romeo e l'obiettivo principale dell'Alfa Romeo praticamente è quello di essere costantemente diciamo con più costanza magari più volte diciamo così rispetto all'anno scorso in lotto per la zona punti non sempre ragazzi perché in lotto per la zona punti praticamente Mercedes e Red Bull sono già i primi 4 posti se poi ci aggiungiamo Alpine, McLaren, Ferrari e Aston Martin sono altre 8 vetture quindi sono 12 posti i primi 12 posti sono sempre occupati da queste qui ragazzi McLaren, Mercedes, Ferrari Red Bull, Alpine e Aston Martin i primi 12 sono fissi ragazzi poi 13, 14, 15 e 16 se la giocheranno Alfa Tauri e Alfa Romeo secondo me poi ci sta che ci sono dei gran premi dove l'Alfa Romeo ci va in top 10 così come l'Alfa Tauri l'obiettivo è farlo con più costanza perché l'Alfa Tauri rispetto a Alpine, McLaren, Aston Martin e Ferrari perdeva circa 2-3 decimi invece l'Alfa Romeo circa un secondo ragazzi ma perché? perché più o meno erano uguali diciamo così sotto il punto di vista del telaio o di configurazione aerodinamica ad Alpine che l'anno scorso era Renault ad Aston Martin che l'anno scorso era Racing Point eccetera eccetera però perdeva molto di più dal punto di vista del motore Ferrari che veramente l'anno scorso faceva veramente cagare era il motorino di un Panda praticamente non un motore Ferrari l'Alfa Romeo inoltre è anche migliorata leggermente ha fatto anche delle migliorie più sull'assetto su come gestire la vettura rispetto allo sforzo mano rendendo di fatto una vettura più affidabile ha dichiarato come si chiama Moncho il direttore dell'area tecnica vi leggo perché io ultimamente vedo che questa cosa mi fa più visualizzazioni cioè leggervi le interviste proprio fatte perché magari si capisce anche di più ragazzi ci sentiamo pronti per iniziare il campionato vabbè a parte che le interviste di oggi sono tutte scontate ci sentiamo pronti chi è che non si sente pronto? cioè voglio dire se stai nell'ambito dello sport ti senti per forza pronto per fare un qualcosa non ti senti pronto non ti senti pronto per l'interrogazione a scuola non qua però ok potete iniziare voi come la pensate su questo motivo ci sentiamo pronti per iniziare il campionato e meglio preparati rispetto allo scorso anno la macchina è stata affidabile per tutto il fine settimana di Shakir e abbiamo migliorato i punti deboli amarsi nel 2020 ora però dobbiamo studiare tutti i dati raccolti e trovare un po' più di performance sia sul giro secco che sul passo gara tutti i nostri rivali hanno alzato l'asticella delle prestazioni e dobbiamo farci trovare pronti per le prime gare non mi sembra non ero tutto convinto sinceramente ha continuato poi lui i tempi nei test non significano nulla e questo è risabuto e in questo momento non sappiamo come si stanno comportando tutte le altre squadre l'unica cosa che sappiamo è come va la macchina che è migliore rispetto a quella dello scorso anno quindi questa è una garanzia l'Alfa Romeo in termini di prestazioni è migliore rispetto a quella dello scorso anno dobbiamo quindi in risultati migliori in gara quindi insomma questo è stato dichiarato e vedremo un po' si è dimostrata anche tra le auto più affidabili nei test percorrendo 422 giri con Raikkonen e Giovinazzi dimostrando che la C41 è una monoposta molto solida e sicuramente più performante rispetto a quella più performante rispetto la monoposta dello scorso anno ragazzi quindi molto molto bene l'Alfa Romeo che compierà un passo avanti se l'anno scorso è ottenuto in totale non vorrei errare ma praticamente 8 punti non vorrei errare ma l'anno scorso l'Alfa Romeo ho ottenuto seriamente 8 punti tutto l'anno questa una cinquantina di punti tra Raikkonen e Giovinazzi potrebbe essere l'obiettivo sicuramente l'importante è fare un passo in avanti rispetto all'anno prima almeno secondo me andiamo a parlare della Haas che la vedo molto molto male ma perché la vedo molto molto male la Haas perché ragazzi semplicemente la Haas è un team che non ha sviluppato la macchina dello scorso anno si pronuncia un anno difficile ci sono due esordienti che dovranno fare semplicemente pratica per il 2022 sperando di ottenere almeno un punto a test ragazzi perché ragazzi la Haas la vedo veramente malissimo resterà sostanzialmente la stessa vettura dello scorso anno non è stata sviluppata la vettura ragazzi ci saranno solamente due debuttanti e ci sarà praticamente un banco di prova ragazzi quindi vedremo vi leggo delle dichiarazioni di Mazepin rispetto a un giornalista che ha scritto il giornalista della BBC ha scritto che ho spinto molto nei test il che è sicuramente un'opinione interessante quando hai così poco tempo cerchi sempre di attaccare il meno possibile un incidente potrebbe farti perdere molto tempo e la situazione quindi potrebbe rivelarsi critica non sono d'accordo con la sua opinione ma alcuni esperti sembrano conoscere la monoposta meglio di noi allora sinceramente raga è un giornalista che cosa deve scrivere è ovvio che non conosce la monoposta meglio di te ma in qualche modo se deve sbilanciare fa il giornalista di mestiere lo deve fare per forza figlio mio cioè non è che quindi sull'ASD non ho niente da dire io spero veramente che Mick Schumacher il figlio di Michael faccia veramente bene se non mi spieghi anche abbastanza giovane ha circa 21 anni ma io dubito veramente che farà bene farà bene magari come pilota ma la ASD io la vedo come ultima vettura verrà secondo me superata dalla Williams la Williams secondo me farà meglio perché ha anche una nuova un nuovo CEO come si chiama il nuovo una nuova proprietà insomma e il il CEO insomma Just Capito si chiama proprio così ha detto che sarà soprattutto un anno di transizione per il 2022 come dargli torto dato che ormai la livella tribù è andata però sicuramente compieranno passi avanti rispetto lo scorso anno hanno sviluppato anche bene la vettura secondo me secondo me faranno meglio dell'ASD poi non lo so fatemi sapere come la pensate voi ma secondo me farà meglio la Williams dell'ASD almeno questa così è come la vedo io ragazzi quindi insomma queste sono le mie opinioni sulle ultime tre vetture passi in avanti per l'Alfa Romeo piccoli passi in avanti per la Williams stessa identica vettura per l'ASD che secondo me verrà anche superata dalla Williams ragazzi perché Russell qualche punticino riuscirà a strapparlo vedremo 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 e magari anche Latifi potrebbe essere una sorpresa secondo me Latifi farà ultimo però un punto a casa secondo me lo porterà detto questo ragazzi queste erano le mie opinioni sugli ultimi tre team attuali di Formula 1 ASD Williams Alfa Romeo se il video ti è piaciuto dimmi da lasciare un mi piace in caso contrario non esi like commento se siete d'accordo se siete d'accordo con me se non è ancora fatto iscriviti al canale in descrizione il link per il sito e il mio Instagram da Monospor07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi